Hola Sabo Family, benvenuti in questo nuovo video Come state? Non me ne fotti un cazzo come sempre No scherzo, a parte scherzi, come state? Non mi frega Non mi frega niente E' da un po' che i Sabo non ci sta più su YouTube Sono tornato con una Dribli Blink Challenge Però ho visto che non l'avete apprezzata molto Perché normalmente non è il mio contenuto Sono tornato qui con le reaction Calde Spero, ve lo giuro raga, spero Di non sparire più Perché? Perché sparisco? Semplicemente perché mi rendo conto che a una certa età bisogna smettere Sono troppo grande, ormai ho 20 anni Dovrei smettere di fare queste cose Sai! Mai! Non è vero Non è vero Stai mentendo? E' falso I YouTuber sanno cantare? Oggi ne ascolteremo uno E poi vedremo la parte 2, la parte 3, la parte 4 Basta che voi lasciate qua sotto Qualche canzone di YouTubers Che poi io andrò a reagire uno ad uno Oggi andiamo con Rimoldigno Goodboy Goodboy Rimoldigno non lo conosco ragazzi Prevento che non conosco molto a YouTube Italia Io lui forse l'ho visto in un video Col padre forse Però non lo conosco bene come YouTuber Ok ok tutto drippato ok mi piace mi piace Goodboy Mica che macchina ho Con i problemi ci vado a nozzo Solito sbaglio tutte le volte Quindi confondo giorno con notte Devo svegliare a andare più forte Sempre più forte Sempre più forte Rosco? Rolls Royce Rolls Royce Rolls Royce Rolls Royce Che macchina c'era prima? Che macchina c'era? No perché no bisogna essere sinceri Questa è una macchina cavallino Aspetta perché teoricamente le macchine cavallino costano eh Fammi cercare macchina con cavallino Ah è una Mustang Ford Mustang Eh raga non me ne intendo Goodboy Allora dovevi fare Goodboy Mustang No è vero Roscox Royce sognava molto meglio Sì hai ragione Guardalo Camicetta Barbario Ok Ok Più forte Che vuoi Ok ok Good vibes Good vibes Good vibes ci sono Good vibes ci sono Let's get it Allora guardalo Allora uno che gira così sulle mani vuol dire che non si è mai fatta una sega in vita sua Vuol dire che non si fa le sega in generale perché il suo braccio regge troppo Cioè cos'è Cioè cos'è Ok 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 Ah Era giusto che mi sembra sia appeso Ah No non ho capito Ok E' la solita frase da trapper Da rapper Ieri non ero nessuno Adesso sono qualcuno Capito Ieri non mi conoscevi Adesso mi copiate in dieci Dieci Eccolo il padre Eccolo la Ecco dove l'ho visto Cazzo l'ho visto pochissimi giorni fa poi lui in un video dove faccia tipo Fai a letto Fai a letto Sarà rotto il mio figlio Fai a letto Fai a letto No mi piace Eeeh Ogni G Grrpau Perchè grrpau Cioè ragazzi Siamo youtubers Dai grrpau Non possiamo mettere in una canzone Dai Grrpau Oh ma gangsta Oh ma mafia Oh ma mafia Ok Ok No 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 Ecco, speriamo, guardiamo, 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 guardiamo.. affinto, è finito! Volevo essere cattivo oggi, perché mi sono detto,ancerano quelle canzoni lì,.. ok, goodbye, spero quelle canzoni lì, un po' da che non ci stanno nell'accapes��ti da festa in piscina, eh, casino, è oltreика, cura! No, quelle robe lì a me non gasano Gasano a volte, ma non gasano tantissimo, sempre Però invece Goodboy ha spaccato Goodboy ha spaccato Un punto per i youtuber Ma non finisce qua, perché voglio ascoltarne altri E sarete voi a dirmi chi dovrà ascoltare qui nei commenti Ma prima c'è un piccolo like E poi vicino c'è un iscriviti Eeeh, fallo che è gratis E ti dicono di pagare di... E, Isavo mi ha detto che è gratis Isavo offre, offro io Tu iscriviti, offro io, tranquillo Anche la campanellina offro io, tutto offro Let's go, ci vediamo per un attimo prossimo video